te lo spedirò gratuitamente ritrovarsi attraverso mario del giglio gentilissimo buonasera mi sono casualmente imbattuto nel suo sito mentre stavo operando una ricerca sul cerchio firenze 77 e mi sono preso del tempo per navigare nel sito e leggere qualcosa qua e là e forse per capire il motivo di questo incontro inaspettato visto che non credo nella casualità delle cose e visto che sono interessato ad approfondire la sua storia vorrei chiederle se è ancora disponibile il cartaceo dei suoi libri le chiedo il favore di farmi sapere la ringrazio per il suo ascolto e la saluto con i miei migliori saluti davide caro davide come sappiamo il caso non esiste purtroppo ti posso accontentare solo per il mio ultimo libro ritrovarsi perché data la mia età di 84 anni non ho più stampato il cartaceo però puoi scaricare i libri gratuitamente dal sito mario del giglio punto com se mi mandi il tuo indirizzo te lo spedirò gratuitamente ti informo che sto lavorando su un ultimo lavoro i monologhi che saranno letti dall'attore enzo de caro e che nel prossimo anno saranno inseriti nel sito aspetto la tua risposta con affetto fraterno mario